Alla fine di nuovo pareggio come da tradizione Arezzo e San Giovannese hanno pensato di scaldarsi della maniera migliore al cospetto di una temperatura semipolare e il pareggio rispecchia quello che si è visto nell'arco dei 95 minuti di gioco. L'Arezzo paga a caro prezzo la pattarellata del giorno che ha costretto l'undici di indiani a giocare con un uomo in meno per 75 minuti. La squadra di Filicano ci ha provato ma ha trovato un avversario che ha saputo togliere i metri giusti. Non mancano le sorprese dei due schieramenti iniziali. Nell'Arezzo spicca l'esclusione di Convitto mentre Filicano lascia in panca a sorpresa proprio Baldesi dato in campo alla vigilia. Non cambiano però gli assetti tattici. La prima conclusione si segnala al secondo minuto con Castiglia sugli sviluppi di un corner. La traiettoria è fuori dallo specchio di Cipriani. Minuto numero 5. Pattarello si mette in luce e va via di potenza sulla fascia sinistra. Cesaretti rischia grosso per tamponarlo. L'Arezzo sale di tono e al tredicesimo passa in vantaggio. Gol da Cinetteca. Poggesi recupera e appoggia per Bianchi. Apertura a sinistra per Pattarello che supera il diretto avversario e propone un immediato taglio per Gaddini puntuale sotto misura all'intervento dell'esterno che segna il terzo gol consecutivo. Applausi a scena aperta per una rete che sembra figlia di schemi riprovati. Fatta la rete, l'Arezzo si abbassa e la Sangio conquista campo con il suo uomo più dotato e al diciannovesimo Bellini si presenta. Ma Viti è bravo a rispingere la conclusione di testa del 10. Azzurro. Non passano quattro minuti che la Sangio crea un altro pericolo da matita rossa. Viti è superato dalla botta di Vanni. Providenziale il salvataggio sulla linea di Gucci che si trasforma in difensore. La partita è viva e dopo 60 secondi arriva il fattaccio che condizionerà il match. Pattarello si inventa un contropiede ma è fermato in modo falloso. Poli lo sollecita a rialzarsi e Pattarello con davanti il direttore di gara non fa altro che dargli una manata. Rosso diretto e jolly sprecato ancora una volta dal talentuoso Mancino Veneto. Cambia lo spartito del match. Indiani passa il 4-4-1. Per Gucci diventa molto dura. Nella ripresa la Sangio gioca sapendo che può sfruttare gli spazi giusti. C'è tempo per un episodio a una moviola al nono ma il direttore di gara lascia correre su questo contatto ai danni di Gucci in area. Non passano due minuti che la Sangiovannese pareggia e non poteva essere che Bellini a metterci la firma con un destro che trova la giusta traiettoria per battere i viti 1-1. Indiani spariglia le carte, rilancia Convitto per Gaddini prima e poco dopo Damiani per Bianchi. L'occasione arriva al ventunesimo, protagonista Rus Papogesi che dialoga con Settembrini ma il diagonale del ragazzo di Reggello finisce di poco alato. La Sangio replica il ventiquattresimo con un colpo di testa di Vanni su azione innescata da Zara e rifinita da Cesaretti. Non ci saranno ulteriori spunti. Gli azzurri si limitano a controllare. L'Arezzo invece paga a caro prezzo l'ingenità di un giocatore che ha saputo sprecare una giornata iniziata per lui nella maniera migliore. Nota margine al triplice fischio. Gli amaranto tornano in testa ma c'è poco da sorridere.